qui italia abbiamo una notizia strabiliante finalmente abbiamo ritrovato i video perduti del 2001 e 2009 con i momenti emozionanti prima dell'aggancio dello shuttle alla stazione internazionale spaziale questo che vediamo è l'immagine della iss attraverso il finestrino si si proprio attraverso il finestrino si vede la iss torna torno indietro si finisce proprio sopra l'oblò ma osserviamo me non vedete una specie di oragnacella dietro e c'è qualche specialista di cartongesso voglio dire queste vi sembrano rifiniture per una navicella voglio dire 21 anni fa erano in queste condizioni le nostre automobili e passiamo al filmato del 2009 ci troviamo all'interno dello shuttle prima di agganciarci alla stazione internazionale spaziale e vedete questi tre astro nauti che non sanno esattamente quello che fanno mentre queste che vedete sono le immagini riprese dalla iss con sotto la terra che corre volevo dire la terra che ruota e adesso torniamo all'interno dello shuttle e osserviamo la iss no 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 un momento andiamo più ad agio la vedete la ragnatela dietro la iss sì sì c'è proprio una ragnatela dietro dietro tutto questo inganno c'è l'uomo ragno con la sua ragnatela che in inglese si dice web e noi tutti siamo impigliati in questa ragnatela ciao ciao